parte seconda, beni culturali, titolo primo, tutela, capo quinto, circolazione in ambito internazionale, sezione seconda, esportazione del territorio dell'Unione Europea, articolo 73, denominazioni, in vigore dal 26 gennaio 2016. 1. Nella presente sezione e nella sezione terza di questo capo si intendono a. Per Regolamento CE il Regolamento Comunione Europea numero 116 2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali. b. Per direttiva UE la direttiva numero 2014-60 Unione Europea del 15 maggio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il Regolamento UE numero 1024 del 2012. c. Per Stato richiedente, lo Stato membro dell'Unione Europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione terza. Articolo 74. Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione Europea, in vigore dal 29 agosto 2017. 1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione Europea degli oggetti indicati nell'allegato A è disciplinata dal Regolamento CE e del presente articolo. 2. Ai fini di cui, all'articolo 3 del Regolamento CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione, il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione Europea, segnala altresì ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione. 3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del Regolamento CE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione ed è valida per un anno. 4. La detta licenza può essere rilasciata dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre 48 mesi dal rilascio di quest'ultimo. 4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare a richiesta anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71. 5. Le disposizioni della sezione 1 visto del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione Europea, a norma dell'articolo 2 del Regolamento CE per la durata di validità della licenza medesima. Sezione 3. Disciplina in materia di restituzione nell'ambito dell'Unione Europea di beni culturali elicitamente usciti dal territorio di uno Stato membro. Articolo 75. Restituzione. In vigore dal 26 gennaio 2016. 1. Nell'ambito dell'Unione Europea, la restituzione dei beni culturali usciti illicitamente dal territorio di uno Stato membro, dopo il 31 dicembre 1992, è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva UE. 2. Ai fini della direttiva UE si intende per bene culturale un bene che è stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illicitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, a essenza dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 3. Abrogato. 4. È illecita l'uscita dei beni avvenuto dal territorio di uno Stato membro, in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CE, ovvero determinato dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea. 5. Si considerano illicitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea, qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione. 6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda. Articolo 76. Assistenza e collaborazione a favore degli Stati e membri dell'Unione Europea, in vigore del 26 gennaio 2016. 1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 4 della Direttiva UE è per l'Italia e il Ministero. Esso si avvale per i vari compiti indicati nella Direttiva dei suoi organi centrali e periferici, nonché dalla cooperazione degli altri ministeri, degli altri organi dello Stato, dalle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione Europea, il Ministero a. Assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati e membri. b. Fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e all'identificazione di chi lo possieda o comunque lo dotenga. Le ricerche sono disposte su domande dello Stato richiedente, corredate di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene. c. Notifica agli Stati e membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti. d. Agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare in ordine al bene oggetto della notifica di cui è la lettera C la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicate all'articolo 75, purché tali operazioni vengono effettuate entro sei mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera E. e. Dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici, nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione e impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione. f. Favorisce l'amichevole composizione tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene di ogni controversia concernente alla restituzione. a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti. 2 bis. L'autorità centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni, correlate a casi, relativa ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo di sistema di informazione del mercato interno, di seguito IMI, stabilito dal Regolamento UE numero 1024-2012, specificamente adattato per i beni culturali. Articolo 77. Azione di restituzione, in vigore dal 26 gennaio 2016. 1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione Europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75. 2. L'azione è proposta davanti al Tribunale del luogo in cui il bene si trova. 3. Oltre ai requisiti previsti dall'articolo 163 del Codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere a. Un documento descrittivo del bene richiesto, che ne certifichi la qualità di bene culturale. b. La dichiarazione delle autorità competenti dallo Stato richiedente, relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale. 4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore, a qualsiasi titolo del bene, anche il Ministero, per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione. 5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri, utilizzando un modello di sistema IMI, stabilito dal Regolamento UE numero 1024-2012, specificamente adattato per i beni culturali. Articolo 78. Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione, in vigore dal 26 gennaio 2016. 1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di tre anni, a decorrere dal giorno in cui l'autorità centrale richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo. 2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di 30 anni, dal giorno dell'uscita illecita del bene, dal territorio dello Stato richiedente. 3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose. Articolo 79. Indegnizzo. In vigore dal 26 gennaio 2016. 1. Il Tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domande della parte interessata, liquidare un indegnizzo determinato in base ai criteri equitativi. 2. Per ottenere l'indegnizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze. Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore, si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertenente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere, o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe. 3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa. 4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indegnizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione. Articolo 80. Pagamento dell'indegnizzo, in vigore del 1 maggio 2004. 1. L'indegnizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene. 2. Nel pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo destinati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo. 3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Articolo 81. Oneri per l'assistenza e la collaborazione, in vigore del 1 maggio 2004. 1. Sono a carico dello Stato richiedente alle spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire. Le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone alla restituzione. Articolo 82. Azione di restituzione a favore dell'Italia, in vigore del 1 maggio 2004. 1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, di intesa con il Ministero degli Affari Esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione Europea in cui si trova il bene culturale. 2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura Generale dello Stato. Articolo 83. Destinazione del bene restituito, in vigore del 1 maggio 2004. 1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede la sua custodia fino alla consegna all'avente diritto. 2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene. 3. Quando non si è conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con altra forma di pubblicità. 4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro 5 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal Comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato di una regione o già altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno. Articolo 84. Informazioni alla Commissione europea e il Parlamento nazionale, in vigore del 14 giugno 2016. 1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del Regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione degli altri Stati membri. 2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, una relazione sull'attuazione del presente Capo, nonché sull'attuazione della direttiva UE e del Regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri. 3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del Regolamento CE e ogni cinque anni la relazione sull'applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al Coma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento. Articolo 85. Banca dati dei beni culturali, elicitamente sottratti, in vigore dal 1 maggio 2004. 1. Presso il Ministero, è istituita la Banca dati dei beni culturali, elicitamente sottratti, seconda modalità stabilite con decreto ministeriale. Articolo 86. Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, in vigore dal 1 maggio 2004. 1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale, nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione Europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri. Articolo 87. Convenzione Unidroa, in vigore dal 24 aprile 2008. 1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'Unidroa sul ritorno internazionale dai beni culturali rubati o elicitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995 e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima. Articolo 87 bis. Convenzione Unesco, in vigore dal 24 aprile 2008. 1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione Unesco sulla elecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970 e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima. Grazie mille. Grazie mille.